Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. A volte i momenti più ordinari della nostra vita possono nascondere un destino inaspettato. Una tranquilla serata fuori dedicata al relax e al piacere può trasformarsi in un incontro con una realtà sconvolgente, senza alcun preavviso. È inquietante pensare a quanto sottili siano i confini tra la normalità e la tragedia, tra la spensieratezza e il pericolo nascosto dietro l'angolo. Quando meno ce lo aspettiamo, un'azione che compiamo tutti i giorni, come ritornare a casa, può improvvisamente segnare l'inizio di un evento che cambierà per sempre il nostro destino. È il 2013 e ci troviamo a Neutral Bay, un soborgo situato nella parte inferiore della costa nord di Sydney, nel nuovo Galles del Sud, in Australia. Qui vive Morgan Huxley, un uomo di 31 anni. Nato il 5 giugno 1982, Morgan è figlio di Alan e Dee Huxley. Trascorre un'infanzia felice insieme al fratello Oliver e alla sorella Tiffany e, crescendo, diventa una persona estroversa, socievole e generosa. È anche amichevole e accomodante e gli amici lo descrivono come un vero gentiluomo. Fin da bambino dimostra di essere dotato di numerosi talenti. Appassionato di sport, eccelle nel calcio e adora correre sulla sua velocissima BMX. Il suo grande amore per gli animali lo porta persino ad adottare un leone in Africa, un gesto che riflette la sua profonda sensibilità. Un'altra sua grande passione riguarda tutto ciò che ha a che fare con navi e barche, al punto che, una volta cresciuto, decide di intraprendere una carriera in questo ambito. Dopo il diploma, infatti, prosegue il suo percorso di studi all'università, laureandosi in ingegneria oceanica. Morgan diventa quindi un ingegnere navale e fonda la sua azienda, la Huxley Marine. Specializzata nella costruzione di pontiglie rimesse per barche, l'azienda riscuote molto successo, consolidando Morgan come un imprenditore affermato a soli 31 anni. Nonostante i traguardi raggiunti, Morgan rimane una persona di buon cuore e per bene. Ha un futuro luminoso davanti a sé e numerosi sogni e obiettivi che vuole raggiungere, ma nel settembre 2013 la sua vita subisce una svolta improvvisa e brutale. La sera del 7 settembre 2013 Morgan partecipa a una festa di fidanzamento di uno dei suoi migliori amici, Chris, a Lane Cove, un subborgo situato a circa 10 minuti di macchina da Neutral Bay. Durante i festeggiamenti Morgan beve e si diverte. Chris, il festeggiato, a un certo punto alza il bicchiere per un brindisi commovente in cui ringrazia Morgan per avergli insegnato ad amare il mondo. Quando la festa volge al termine, Chris e la sua fidanzata Filippa condividono un taxi con Morgan, che lo accompagna fino a casa, un appartamento all'interno di un condominio in Watson Street, a Neutral Bay. Una volta arrivato davanti a casa, però Morgan non è ancora pronto a concludere la serata. Così chiede a Chris e a Filippa se hanno voglia di andare insieme a lui in un pub locale situato all'interno dell'Ox Hotel per bere ancora qualcosa. Chris e la sua fidanzata però rifiutano. Hanno già bevuto parecchio durante la serata e ora desiderano solo tornare a casa e andare a dormire. Morgan quindi decide di andare a bere qualcosa da solo e si dirige all'Ox Hotel, che si trova a soli 150 metri circa dal suo appartamento. Arrivato lì, ordina una birra, si siede a un tavolo e la sorseggia mentre controlla i messaggi sul suo telefono, un Samsung Galaxy. È passata da poco luna di notte e il bel 31enne con la barba corta indossa ancora i pantaloncini cargo e la maglietta blu che aveva alla festa di fidanzamento del suo migliore amico Chris. È a piedi nudi perché ha lasciato l'infradito alla festa e ha gli occhiali da sole ancora in testa. Manda un messaggio a un'amica, Rebecca, scusandosi per non essere riuscito a raggiungerla prima per incontrarsi con lei e un paio di altri amici. L'uomo ha sempre avuto la memoria corta per gli impegni sociali e si stava divertendo così tanto alla festa che ha perso la coniezione del tempo. Alza lo sguardo verso la tv sulla parete in fondo. Le elezioni si sono appena concluse e Tony Abbott è stato nominato primo ministro australiano. Ma Morgan ha altro a cui pensare. Dopo circa un mese di calma per la sua attività, la Huxley Marine è convinto di essersi aggiudicato un grosso contratto per la costruzione di una passerella oceanica sulla Central Coast. Manda poi un altro messaggio di testo, questa volta una vecchia amica, una donna che conosce fin dalle elementari e con cui ha una relazione intima da quattro anni. Poco prima del 1.30 Morgan decide di tornare a casa, dato che il locale avrebbe chiuso a breve. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono mentre lascia il locale e, come ricorderete, è a piedi nudi, perché aveva indossato delle infradite per la festa di fidanzamento, dato che era un party informale, ma le aveva lasciate lì scordandosi di rimetterle. Morgan cammina lungo Military Road per raggiungere il suo appartamento e, arrivato a destinazione, entra e si dirige immediatamente verso la camera da letto. È stanco e vuole solo dormire. Ma Morgan non vive da solo in quell'appartamento. Ha una coinquilina di nome Jean Redmond. Intorno al 1.30 di quella notte, più o meno quando Morgan era tornato a casa, aveva sentito un rumore, come se qualcuno stesse bussando a una porta dell'appartamento. Tuttavia, non aveva dato molta importanza alla cosa e si era rimessa a letto, accendendo un po' di musica per attutire il rumore, in modo da riuscire a riaddormentarsi. Circa un'ora dopo, intorno alle 2.30, Jean si sveglia di nuovo, questa volta disturbata da rumori simili a dei tonfi. E poi ha dei gargarismi. Realizza che quei suoni inquietanti provengono dalla camera da letto del suo coinquilino Morgan. Esce dalla sua stanza per controllare e si trova di fronte a una scena terrificante. Morgan è sdraiato sul pavimento, accanto al suo letto, indossa solo una maglietta ed è coperto di sangue. Sul corpo ha quelle che a Jean sembrano diverse ferite da taglio. Anche se è in condizioni disperate e semi-incosciente, Morgan non è ancora morto, ma Jean si rende conto che non gli rimane molto da vivere. Sta sanguinando copiosamente sul pavimento della camera da letto. I tonfi e quei suoni simili a gargarismi che Jean aveva sentito prevenivano proprio da Morgan, probabilmente mentre tentava disperatamente di alzarsi dal pavimento. Assalita dal panico, Jean ha comunque la prontezza di chiamare immediatamente i servizi di emergenza. Quando i paramedici arrivano, trovano Morgan già in arresto cardiaco. Lo portano subito in ospedale con l'ambulanza e provano a rianimarlo durante il tragitto, ma l'uomo non dà segni di ripresa. Arrivato in ospedale, i medici provano a effettuare un altro tentativo di rianimazione, ma anche in questo caso non riescono a fare nulla. Morgan viene dichiarato morto a soli 31 anni. È stato brutalmente assassinato nella camera da letto del suo appartamento, nelle prime ore di domenica 8 settembre 2013. L'autopsia evidenzia che ha riportato un totale di 28 ferite da taglio sul corpo, indicando che l'assassino ha messo in atto un overkilling. Morgan ha subito un'aggressione incredibilmente violenta. La maggior parte delle ferite da taglio si concentra sul collo e sulle spalle. Ha ricevuto anche delle pugnalate alla testa, una delle quali era stata inferta con una forza tale che la punta della lama si era spezzata ed era rimasta conficcata nel suo cranio. Nonostante le ricerche, il coltello utilizzato per l'omicidio non viene trovato nell'appartamento, segno che l'arma del delitto non è stata abbandonata sulla scena del crimine, bensì portata via dall'assassino. Viene avviata un'indagine per omicidio e la polizia è determinata a individuare al più presto il responsabile della morte orribile e brutale di Morgan. Gli investigatori iniziano raccogliendo le dichiarazioni degli amici, della famiglia e della coinquilina di Morgan. Interrogano anche i vicini cercando di capire se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa di sospetto la notte dell'omicidio e fanno tutto il possibile per identificare dei sospettati. Cercano anche di capire quale potrebbe essere il movente del delitto, perché qualcuno avrebbe voluto uccidere un ragazzo così genuino. Morgan non aveva nemici e sappiamo che i suoi amici lo descrivevano come un gentiluomo. Chi poteva volere Morgan Huxley morto? E perché? All'inizio delle indagini la prima teoria presa in considerazione dagli investigatori è che il colpevole potrebbe essere una donna. Forse la morte di Morgan è stata causata da una partner gelosa o da una ex amante. Il fatto che sia stato trovato seminudo accanto al suo letto e accoltellato così tante volte suggerisce che l'omicidio potrebbe avere una motivazione passionale. È possibile che la colpevole fosse arrabbiata con Morgan e abbia riversato la sua furia sul corpo della vittima con ogni singola coltellata infletta. Una delle principali linee di indagine coinvolge quindi fin dall'inizio la vita amorosa di Morgan e le sue relazioni passate. Gli investigatori cercano di identificare chiunque potesse serbare un tale rancore verso di lui, ma questa pista alla fine si rivela essere un vicolo cieco. Nessuna delle donne con cui Morgan ha avuto una relazione o comunque è stato coinvolto in passato ha qualcosa a che fare col suo omicidio. Infatti la polizia è costretta a valutare altre piste, come ad esempio inizierà a indagare anche sugli ex soci di Morgan, rendendoli potenziali sospettati. Tuttavia i media sembrano captare solo una particolare linea di indagine, ovvero quella relativa alle amanti di Morgan e riportano subito questa informazione. Quando la notizia dell'omicidio di Morgan si diffonde in tutta l'Australia e inizia a essere riportata dai giornali, la copertura mediatica sembra concentrarsi più sulla vita personale di Morgan che sulla sua morte. I giornalisti lo descrivono come un donnaiolo, un playboy, un Casanova, dipingendolo come un seduttore che intratteneva relazioni intime con una moltitudine di donne diverse. Si parla spesso delle sue avventure di una notte, come se fossero rilevanti per il suo caso. Queste informazioni irrilevanti e poco rispettose fanno notizia e un articolo di un'agenzia di stampa suggerisce addirittura che la morte di Morgan possa essere il risultato di una sveltina finita male. Tutto ciò è terribile, sembra quasi che la colpa della morte di Morgan non ricada sul suo assassino o assassina, ma che sia solo sua. I media stanno intraprendendo una pericolosa deriva, insinuando che se Morgan non fosse stato un donnaiolo, forse non sarebbe stato ucciso. Questo è un atteggiamento vile e immagino quanto possa essere terribile questa situazione per la famiglia di Morgan. Non solo devono affrontare questa perdita improvvisa e scioccante, ma si ritrovano a leggere degli articoli di giornale in prima pagina che insultano la memoria di Morgan e raccontano bugie su di lui. Quest'uomo è stato vittima di un atto di violenza brutale, ma i media lo rappresentano come se fosse qualcuno che non merita alcuna compassione. In ogni caso, come vi ho detto, la polizia stabilisce ben presto che Morgan non è stato aggredito e ucciso da una ex. Gli investigatori non riescono a identificare nessuno nella sua vita che avrebbe avuto delle motivazioni valide per ucciderlo. Questo porta a un'altra inquietante ipotesi. E se Morgan fosse stato assassinato da uno sconosciuto quella notte? A questo punto la polizia controlla tutte le telecamere a circuito chiuso che si trovano lungo il breve tragitto dall'Ox Hotel, dove Morgan aveva bevuto l'ultimo drink, fino al suo appartamento in Watson Street, dove è stato ucciso. La polizia è ansiosa di ripercorrere i suoi ultimi passi e di esaminare attentamente i filmati in cui appare, nella speranza di trovare qualche indizio sull'identità dell'assassino. Le telecamere di sorveglianza, in questo caso, si rivelano una svolta cruciale per le indagini. La polizia analizza il filmato che mostra Morgan mentre stava camminando lungo la strada che l'avrebbe condotto a casa, ovvero Military Road, subito dopo aver lasciato il pub. È il ragazzo con la camicia bianca e senza scarpe. All'improvviso notano un altro uomo molto più giovane che lo sta seguendo da vicino, correndo. Indossa una maglietta nera a maniche lunghe e porta una borsa a tracolla. Aveva camminato dietro a Morgan per un po' di tempo e poi aveva iniziato a correre, come se cercasse di raggiungerlo, mantenendo però sempre una certa distanza. Sembra, insomma, che stia cercando di seguire Morgan senza farsi notare. Ma perché questo giovane ragazzo lo sta seguendo? Potrebbe avere qualcosa a che fare con la sua morte? Per scoprirlo, la polizia deve identificarlo e parlare con lui. Fortunatamente, l'abbigliamento indossato da questo giovane offre un indizio su quale potrebbe essere la sua professione. I detective notano, infatti, che i pantaloni che indossa nel filmato sembrano quelli che portano gli chef o i cuochi. In possesso di queste informazioni, i detective decidono di visitare tutti i bar e i ristoranti locali, mostrando al personale un'immagine di questo giovane estrapolata dal video delle telecamere di sorveglianza, nella speranza che qualcuno lo riconosca. La polizia entra in un locale, una scuola di cucina chiamata Sydney Cooking School, e, quando mostrano le immagini al personale, tutti esclamano «Oh sì, questo tizio lavora proprio qui! Lavora per la scuola di cucina!». Forniscono quindi alla polizia il suo nome. Il ragazzo che seguiva Morgan in quel filmato la notte del suo omicidio si chiama Daniel Jack Kelsall. È a vent'anni. La polizia si mette immediatamente in contatto con Daniel e si reca subito al suo indirizzo di casa per parlare con lui. Gli chiedono di presentarsi alla stazione di polizia per un interrogatorio quello stesso giorno, ovvero il 24 settembre 2013, quindi circa due settimane dopo l'omicidio di Morgan. Daniel accetta e va alla stazione di polizia, dove viene sottoposto a un interrogatorio. Nega di avere qualcosa a che fare con l'omicidio di Morgan, ma ammette di ricordare di averlo visto quella notte. Daniel racconta ai detective che la sera del 7 settembre 2013 stava lavorando alla scuola di cucina. C'era una festa di compleanno quella sera, quindi l'ambiente era molto affollato. Quando il party era finito, intorno alle 20 e 30, Daniel era rimasto per aiutare a pulire. Dopo aver terminato tutte le sue faccende, era uscito dal lavoro ed era entrato in un mini market per comprare qualcosa da bere. Era stato in quel momento che aveva visto Morgan Huxley entrare nel mini market prima di dirigersi all'Ox Hotel quella sera, per prelevare dei contanti dal bancomat. Morgan e Daniel non si conoscevano, quindi Daniel non sapeva il suo nome. Si riferisce a Morgan chiamandolo l'uomo senza scarpe, perché, come vi ho detto in precedenza, Morgan aveva dimenticato l'infradito che indossava alla festa di fidanzamento dei suoi amici. Daniel racconta di aver avuto una conversazione molto breve con lui, e poi con la guardia di sicurezza del negozio, scherzando sul fatto che, probabilmente, all'uomo senza scarpe, non sarebbe stato permesso di entrare all'Ox Hotel, dato che sembrava già parecchio ubriaco. Daniel spiega che a quel punto era uscito dal negozio e aveva fatto un giro nei dintorni. Poi aveva incontrato Morgan per la seconda volta quella notte. Lo aveva visto vicino a un semaforo non troppo lontano dall'Ox Hotel, ma afferma di non aver parlato con lui. Daniel poi era tornato a casa e si era messo a letto. Quando la polizia gli chiede se fosse andato a casa di Morgan, il ragazzo nega. Tuttavia, gli agenti che lo stanno interrogando sono scettici riguardo la sua versione dei fatti. Daniel sostiene di aver incrociato Morgan solo per un breve momento quella sera e che non è coinvolto nel suo omicidio. Le riprese delle telecamere di sorveglianza, però, sembrano raccontare una storia diversa. Mostrano infatti che Daniel stava seguendo Morgan quella notte e ad un certo punto lo stava persino rincorrendo. La polizia, sempre durante l'interrogatorio, gli chiede quindi perché stesse correndo. Daniel risponde che aveva deciso di fare una breve corsetta per riscaldarsi. Gli agenti, però, non sono convinti della sua risposta e gli chiedono di nuovo perché stesse camminando o correndo in quella direzione su Military Road, detto che quella strada non portava a casa sua. Daniel allora spiega che aveva deciso di tornare sul posto di lavoro alla scuola di cucina prima di rientrare a casa per controllare di non aver lasciato le luci accese. La polizia, sempre più scettica riguardo alle spiegazioni fornite da Daniel, gli chiede se è disposto a fornire un campione del suo DNA. Gli agenti avevano infatti raccolto e catalogato sulla scena del crimine quello che ritengono essere il DNA dell'assassino. Quando il corpo di Morgan era stato trovato, una squadra forense aveva perquisito l'appartamento e aveva scoperto un'impronta digitale non identificata sulla porta della camera da letto di Morgan. Il fatto che quell'impronta non appartenesse né a Morgan né alla sua coinculina Jean porta la polizia a credere che possa essere l'impronta digitale dell'assassino. Inoltre viene trovato del DNA non identificato anche nelle parti intime di Morgan. Se ricordate vi avevo detto che era stato ritrovato con solo una maglietta addosso e nient'altro. Sembra quindi che Morgan sia stato assalito intimamente dal suo assassino. Per questo motivo la polizia vuole raccogliere un campione del DNA di Daniel per confrontarlo con quello trovato sulla scena del crimine. Tuttavia Daniel si rifiuta di fornire il campione e naturalmente questa scelta aumenta ulteriormente i sospetti degli agenti. Anche se Daniel ha il diritto di rifiutarsi di fornire il suo DNA agli occhi della polizia questo comportamento sembra chiaramente sospetto. Se il ragazzo fosse innocente e non avesse nulla da nascondere perché non fornire il suo DNA per essere escluso come sospettato? Nonostante i sospetti la polizia per il momento è costretta a lasciare andare Daniel dopo l'interrogatorio perché non hanno prove concrete che lo colleghino direttamente all'omicidio di Morgan. La polizia ora deve cercare e trovare prove contro di lui. Ma sorprendentemente per i detective solo un paio di giorni dopo il primo interrogatorio Daniel si mette in contatto con la polizia chiedendo di incontrarli di nuovo. Ammette di non essere stato completamente sincero nella sua dichiarazione iniziale e afferma di voler raccontare la verità. I detective ovviamente accettano di rivederlo e decidono di incontrarlo in un centro commerciale. Non è chiaro perché non abbiano parlato con lui nuovamente alla stazione di polizia. Forse Daniel si era rifiutato sapendo che sarebbe stato registrato. Quando si incontrano in questo centro commerciale Daniel racconta di nuovo il resoconto di quella notte e questa volta cambia completamente la sua versione. Come sappiamo Daniel aveva affermato di aver visto Morgan Huxley nel minimarket la notte in cui è stato assassinato. Avevano avuto una breve conversazione durante la quale Morgan gli aveva chiesto se anche lui avesse bisogno di prelevare dei soldi e Daniel gli aveva risposto di no. Più tardi quella notte l'aveva visto al semaforo ma in questo caso non aveva parlato. Daniel aveva dichiarato di non essere mai stato a casa di Morgan ma quando incontra gli investigatori al centro commerciale ammette di aver mentito. Dice che è vero Morgan aveva lasciato l'Ox Hotel e lui l'aveva incontrato al semaforo su Military Road ma in realtà avevano iniziato a parlare e la conversazione era diventata piuttosto profonda. Daniel spiega che all'inizio Morgan era sorridente mentre chiacchieravano ma poi aveva iniziato a diventare sempre più serio. Daniel quindi gli aveva chiesto se andasse tutto bene e Morgan gli aveva spiegato che aveva avuto una settimana piuttosto stressante al lavoro. Di solito alleviava lo stress incontrandosi con un'amica per bere qualcosa per poi concludere l'appuntamento sotto le coperte ma tutte le sue amiche quella sera erano impegnate. Daniel allora gli aveva chiesto se volesse intrattenersi con lui e Morgan aveva accettato invitandolo nel suo appartamento. Quando erano arrivati a casa di Morgan erano andati subito nella camera da letto dell'uomo. Daniel racconta di aver iniziato ad accarezzarlo poi all'improvviso una giovane donna dai capelli biondi era entrata nella stanza e aveva colpito Morgan in testa. La donna poi aveva iniziato a litigare con Morgan continuando ad alzare le mani su di lui. Daniel preso dal panico dice di essersi alzato e di essere corso fuori dall'appartamento per tornare a casa. Ammette che è vero aveva mentito durante il primo interrogatorio ma aveva le sue ragioni era in preda al panico aveva appena scoperto che Morgan era stato assassinato ed era angosciato all'idea che avrebbe potuto sospettare di lui. Aveva avuto paura che se avesse raccontato la verità i detective avrebbero subito dubitato di lui dato che era stato nell'appartamento della vittima e aveva avuto un rapporto intimo con lui. Questa è la nuova versione degli eventi fornita da Daniel secondo cui la persona responsabile dell'omicidio sarebbe stata questa donna bionda che si era precipitata nella camera da letto col chiaro intento di fargli male dato che era visibilmente infuriata con lui. Tuttavia la polizia continua a nutrire dei dubbi. Gli investigatori hanno l'impressione che Daniel avesse semplicemente bisogno di un po' di tempo per inventare una nuova versione dei fatti perché probabilmente si era reso conto che la sua prima storia non era credibile. Inoltre gli agenti ritengono che abbia realizzato che il suo DNA era presente su Morgan dato che aveva avuto un rapporto intimo con lui e doveva quindi trovare una versione che spiegasse la presenza di una sua traccia biologica in una parte intima della vittima. Gli agenti dubitano fortemente che il rapporto tra Daniel e Morgan fosse consensuale perché per quanto ne sanno loro l'uomo si era sempre identificato come eterosessuale e aveva sempre frequentato solo donne. Anche se la sessualità può essere fluida e chiunque potrebbe decidere di sperimentare qualcosa di nuovo in un qualsiasi momento della propria vita la polizia non crede che sia questo il caso. Morgan non aveva mai espresso alcun tipo di attrazione verso gli uomini. La polizia quindi non crede nemmeno per un minuto che Morgan abbia invitato Daniel nel suo appartamento col fine di avere un rapporto intimo. È evidente che Daniel sia cercando di ingannare i detective così quando termina di esporre la sua nuova inverosimile versione dei fatti le autorità decidono di averne abbastanza quindi lo arrestano e gli prendono un campione di DNA perché ora è legalmente obbligato a fornirlo e alla fine lo rilasciano. Nel frattempo la polizia continua a cercare prove contro di lui dato che è ormai indubbiamente il principale sospettato. I detective riescono anche a ottenere un mandato di perquisizione sia per casa sua che per la scuola di cucina in cui lavora. Quando perquisiscono la scuola di cucina si rendono conto che uno dei coltelli è scomparso proprio subito dopo l'omicidio di Morgan Huxley e nessun membro dello staff ha idea di dove sia finito. La polizia sospetta che Daniel abbia rubato questo coltello dal lavoro per usarlo per uccidere Morgan e che poi se ne sia liberato gettandolo da qualche parte perché l'arma del delitto non è mai stata ritrovata sulla scena del crimine. Durante la perquisizione della casa di Daniel la polizia raccoglie alcuni dei suoi indumenti per farle analizzare e trova la borsa a tracolla che credono indossasse la notte in cui Morgan è stato ucciso. I detective sono convinti che sia la stessa borsa vista nei filmati delle telecamere di sorveglianza e che Daniel inoltre indossava anche quando era andato alla stazione di polizia per il suo primo interrogatorio il 24 settembre. Quando la borsa viene inviata al laboratorio per essere esaminata gli scienziati rilevano delle tracce di sangue che corrispondono a Morgan Huxley. Stranamente Daniel non solo non ha pensato di liberarsi della borsa dopo l'omicidio ma l'ha persino portata con sé alla stazione di polizia. Ma questa non è la sola prova contro Daniel perché quando il suo DNA viene confrontato con l'impronta digitale trovata sulla porta della camera da letto di Morgan e con il DNA sulle sue parti intime emerge una corrispondenza. Di conseguenza l'8 ottobre 2013 esattamente un mese dopo il delitto Daniel viene nuovamente arrestato e accusato dell'omicidio e dell'aggressione del 31enne Morgan Huxley. Durante l'arresto Daniel fa anche un commento del tutto inappropriato dicendo ai detective scusate il gioco di parole ma qui dentro l'aria si taglia con un coltello. È assurdo, sconvolgente che dopo essere appena stato arrestato per aver brutalmente accoltellato a morte un giovane innocente che nemmeno conosceva Daniel trova il coraggio di fare una battuta del genere su un coltello. Ti mostra un atteggiamento parecchio sfacciato il ragazzo. Chiaramente Daniel non prova alcun rimorso e non ammette la sua colpa in seguito all'arresto. Continua ad attenersi alla sua avversione dei fatti quindi il caso è destinato ad andare a processo. Nel frattempo i detective proseguono le indagini per rendere il caso contro Daniel ancora più solido decidendo di scavare ulteriormente nella vita del ragazzo e nel suo passato. Daniel Jack Kelsall è nato il primo febbraio 1993 è stato adottato da Mark e Lynn Kelsall e ha un fratello e una sorella. La maggior parte delle persone che lo conosce compresa la sua famiglia lo chiama Jack e sempre parlando di famiglia la sua è benestante appartenente alla classe medio alta e Daniel ha avuto un'infanzia privilegiata circondato dall'amore dei suoi genitori. Nonostante ciò ha avuto diverse difficoltà a fare amicizia a scuola e a socializzare tanto che per un periodo è stato istruito a casa. In seguito ha studiato ospitalità e preparazione del cibo presso il Wellington Institute of Technology in Nuova Zelanda. Tuttavia dopo un po' la nostalgia di casa è iniziata a farsi sentire e la sua salute mentale ha iniziato a peggiorare. Quindi alla fine è tornato a Sydney in Australia con la sua famiglia. Successivamente è riuscito a trovare un lavoro presso la scuola di cucina di Sydney a Neutral Bay dove sembrava trovarsi molto bene. Ma soffermiamoci un attimo a parlare della salute mentale di questo ragazzo. La polizia esaminando la sua storia medica scopre che circa 16 mesi prima dell'omicidio di Morgan Daniel aveva raccontato sia al suo medico di base che a uno psichiatra di avere spesso pensieri intrusivi che riguardavano l'accoltellare a morte qualcuno mentre tornava a casa da lavoro una sera. Cosa che come sappiamo ha poi fatto. Nonostante Daniel avesse confessato il desiderio di voler uccidere qualcuno sembra che i professionisti non abbiano dato peso a queste affermazioni e di conseguenza non abbiano intrapreso nessuna azione. I genitori di Daniel criticheranno aspramente questo psichiatra per non aver dato al figlio l'aiuto di cui aveva sicuramente bisogno. Suo padre Mark ha affermato se avesse ricevuto quell'aiuto prima non sarebbe mai successo. Questo lascia intendere che i genitori di Daniel non credono alla sua dichiarazione di innocenza e sembrano consapevoli del fatto che poteva essere capace di commettere un omicidio del genere. Nella storia medica di Daniel non c'è nulla che suggerisca che avesse mai sperimentato alcun tipo di psicosi ma gli erano stati diagnosticati diversi disturbi da alcuni professionisti. Daniel è affetto da depressione e disturbo bipolare ed è autistico. La polizia prima del processo scopre che Morgan potrebbe non essere stata l'unica persona presa di mira da Daniel e che avrebbe voluto uccidere sia prima che dopo l'omicidio. Un uomo si era fatto avanti affermando che diversi mesi prima che Morgan Huxley venisse ucciso gli era successo qualcosa che ritiene sia importante far sapere. era fermo su Spruzzon Street a Neutral Bay con una sigaretta in bocca a poche via di distanza da Watson Street dove viveva Morgan quando all'improvviso un giovane era assaltato fuori da alcuni cespugli proprio di fronte a lui. Lo aveva spaventato e afferma che quello era stato un incontro davvero strano e bizzarro. Solo dopo l'arresto di Daniel l'uomo si era reso conto che era proprio lui quel ragazzo che era assaltato fuori dai cespugli e si era chiaramente nascosto lì per osservarlo spiarlo. Quindi Daniel probabilmente aveva intenzione di aggredire anche lui. Inoltre viene fuori che circa una settimana dopo l'omicidio di Morgan Daniel aveva seguito un altro giovane mentre camminava lungo Ben Boyd Road. Indossava la stessa uniforme da chef che aveva addosso la notte dell'omicidio di Morgan. Daniel aveva pedinato questo giovane fino a casa sua ma il ragazzo se n'era accorto e aveva affrontato Daniel facendolo scappare. Ancora una volta il ragazzo aveva intenzione di uccidere probabilmente elettrizzato dall'omicidio di Morgan e desideroso di commettere un altro crimine. Prima del processo Daniel viene valutato dalla psicologa forense Susan Pullman per stabilire se fosse idoneo a sostenere il processo. Riferisce alla dottoressa tutti i disturbi che gli erano stati diagnosticati e le descrive i suoi comportamenti compulsivi legati all'autismo. Ad esempio spiega che ogni volta che si toglie gli occhiali sente il bisogno di dare dei colpetti laterali alla montatura per un certo numero di volte. Tuttavia nel corso di questa valutazione la dottoressa si rende conto che Daniel non si comporta nel modo descritto. Si era tolto gli occhiali parecchie volte senza mai toccare la montatura. Questo suggerisce che Daniel si sia inventato questo dettaglio. Ma perché? Probabilmente per far credere che il suo stato mentale sia peggiore di quanto non lo sia in realtà per cercare di giustificare ciò che aveva fatto sperando in una condanna più clemente. Ma la dottoressa Pullman non si lascia ingannare e conclude che Daniel è perfettamente in grado di comprendere le sue azioni. Vi dirò di più questo ragazzo è un giovane uomo intelligente molto sveglio ed eloquente e sapeva perfettamente cosa stava facendo quando ha preso quel coltello alla scuola di cucina in cui lavorava e ha iniziato a seguire Morgan fino a casa sua. Può soffrire di qualche disturbo questo sì ma non può non essere ritenuto responsabile delle sue scelte e delle sue azioni. Ha la capacità di comprendere le emozioni delle persone e uno stato mentale per poter essere ritenuto responsabile dell'omicidio da lui commesso. Il processo per l'omicidio di Morgan Huxley inizia nel marzo del 2015 circa un anno e mezzo dopo il crimine. Daniel si dichiara non colpevole e si presenta al banco dei testimoni fornendo la stessa versione dei fatti raccontati durante il secondo interrogatorio con i detective ovvero che Morgan lo aveva invitato nel suo appartamento quella notte per avere un rapporto intimo consensuale ma all'improvviso una donna bionda si era precipitata in camera da letto e aveva iniziato ad aggredire Morgan Daniel spaventato se n'era andato quindi deve essere stata questa donna ad uccidere Morgan è interessante notare che neanche la difesa di Daniel si attiene completamente alla sua versione dei fatti l'avvocato difensore sostiene che il suo cliente probabilmente soffriva di un disturbo psicotico al momento dell'omicidio potrebbe aver seguito Morgan fino a casa sua quella notte con l'intenzione di assalirlo ma non di ucciderlo tuttavia quando Morgan aveva iniziato a difendersi e aveva tentato di vincolarsi per respingere le sue avance Daniel era andato su tutte le furie gli aveva iniziato a pugnalarlo non riuscendo a trattenersi in sostanza l'avvocato di Daniel sa che la sua versione dei fatti non sta in piedi e che la giuria non ci avrebbe mai e poi mai creduto pertanto cerca di affermare che la salute mentale di Daniel era compromessa al punto da non poter essere ritenuto responsabile del delitto ma come vi ho detto precedentemente la psicologa forense della cosa aveva dichiarato che Daniel era perfettamente consapevole di ciò che stava facendo quella notte aveva pianificato quel crimine voleva uccidere qualcuno e ha scelto Morgan Huxley questo delitto non ha nemmeno un movente definito probabilmente Daniel ha scelto Morgan semplicemente perché credeva fosse un obiettivo facile era ubriaco quella sera le riprese delle telecamere di sorveglianza dimostrano chiaramente che il crimine è stato pianificato con cura e premeditato Daniel ha seguito Morgan fino a casa e non solo la polizia ha trovato altre riprese di videosorveglianza della zona registrate quella notte che dimostrano che Daniel aveva osservato Morgan lasciare l'Ox Hotel quindi dopo averlo visto nel minimarket lo aveva seguito fino all'hotel e mentre Morgan era seduto a bere e a mandare messaggi le telecamere di sorveglianza appena fuori dal locale hanno ripreso Daniel in piedi a fissarlo per tutto il tempo quando Morgan si era alzato per andarsene Daniel l'aveva visto e imitato poco dopo le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Daniel su Military Road mentre correva dietro a Morgan Daniel lo aveva pedinato per tutto il tragitto fino al suo appartamento e dopo che Morgan era rincasato e si era addormentato Daniel era entrato nell'appartamento non c'erano segni di scasso sulla porta d'ingresso si ritiene infatti che Morgan in stato di ebbrezza abbia lasciato accidentalmente la porta d'ingresso aperta permettendo a Daniel di entrare senza alcun problema purtroppo una volta all'interno Daniel aveva raggiunto la camera da letto aveva aggredito Morgan intimamente e lo aveva pugnalato a morte per poi fuggire dalla scena del crimine Morgan è stato trovato dalla sua coinquilina Jean e Daniel è stato fortunato a non essere stato colto in flagrante sappiamo benissimo che Jean aveva sentito quei rumori quella notte dei colpi e dei tonfi ma Daniel era riuscito a uscire dall'appartamento prima che Jean trovasse Morgan in fin di vita sul pavimento della sua camera da letto il pubblico ministero sostiene che l'omicidio di Morgan è stato un atto opportunistico e che Daniel lo aveva seguito fino a casa con l'intenzione di soddisfare con urgenza un'ossessione o una fantasia uccidere qualcuno accoltellandolo al termine del processo la giuria si schiera con l'accusa e dichiara il 22enne Daniel Kelsal colpevole di atti osceni aggressione e omicidio del 31enne Morgan Huxley condannandolo a 40 anni di carcere con un minimo di 30 anni prima di poter ottenere la libertà condizionale Daniel tenta di appellarsi alla sua sentenza nel 2018 i suoi avvocati cercano di far ridurre la sua pena di circa 10 anni sostenendo che la salute mentale di Daniel e la sua giovane età al momento dell'omicidio avrebbero dovuto essere prese maggiormente in considerazione dal giudice l'appello però fortunatamente viene respinto e Daniel Kelsal è tuttora in prigione arriviamo alle conclusioni il caso di Morgan è davvero agghiacciante era fuori a godersi una serata tranquilla ignaro del fatto che mentre stava sorseggiando la sua birra in un pub vicino a casa qualcuno lo stava osservando e stava progettando di seguirlo fino a casa e ucciderlo mi lascia sconcertata sentire qualcuno che afferma di aver eliminato una persona perché ne aveva voglia secondo la mia personale opinione in realtà Morgan incarnava tutto ciò di cui Daniel era invidioso o forse rappresentava il tipo di uomo che Daniel riteneva di non poter avere mai inoltre abbiamo trattato dei casi in cui degli assassini hanno espresso tutti i loro pensieri più oscuri a delle figure professionali come psicologi o psichiatri prima di commettere un omicidio in questo caso è accaduta esattamente la stessa cosa e credo che i professionisti abbiano davvero sottovalutato le affermazioni di Daniel sarebbe bastato alla prima avvisaglia di squilibrio mandarli in un istituto psichiatrico solo così si sarebbe potuto prevenire il triste e insensato omicidio di Morgan Huxley Morgan aveva un futuro luminoso davanti a sé ed era così giovane aveva appena 31 anni che è la mia stessa età detto questo io ho finito di parlare in questo video ovviamente sono sempre molto curiosa di sapere quali siano le vostre opinioni su questo caso fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e io nel frattempo vi mando un bacio noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti